La bomba pa- Giorgio che cazzo vuoi? Cosa? Distrugano il ban of Darius Dove si è il ban of Darius? So we back in the maaaaaaaaaa Ok piccano Darius Se prendiamo Sylas contro Sylas Nessuno ha ulti Ottimo, io Hecarim mi rifiuto di giocarlo Io te l'ho detto che voleva giocare Hecarim Non ho mai giocato e cosa doveva giocato blitzki anche a noi one for all vai 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 intanto vincerà lente in sion tanto lice zealand perché quando la mia vita ormai così allora infame allora infame che come andiamo si guarda io vado come sicuramente sicuramente non ve lo doppi dai quanti vanno in quanti vanno a d quanti vanno a p io vado full creek alessio di riccardo tu che vai a p riccardo mappi giorgio dove vai da full creek io vado crito dai io riccardo e giorgio andiamo a p che pare dovadi e giorgio e coso del antico critico e sì io non si è vabbè a posto allora andate due a di giocciolo di treno che quello che gli riesce meglio io vado quale sia top venire con me su allora io vado che parto botte di treno e io vado con i valori che parto con riccardo botte scusate per favore no va bene ci può andare che parto me o no è una caglia di crea l'antensite qua è questione di un'ora è una fucking gara di club signori chi c'hanno 3 che esce a parte che manda a livello sempre visto trash vince trash di solito però noi scaliamo ma perché che parto livello sette britzkank what the fuck sì che parto giocabili prima poi voli ma sia meno punti di me perché ci abbiamo tutti le mestiere su britzkank e io no c'è la meglio non i punti altro che giocava a britzkank io non lo gioco tipo mai nemmeno io gioco mai di scrambi troppo è una galassia lontana lontano che abbiamo 3 e lo play era perché giorgio perché gli attivano e love blades perché dente di nasce ma detto che andava a p dente di nascere capisce se ti nasce rapidi quindi 15 per cento di sua p ogni auto attacca se mi dai 3 subito dai 45 per cento quasi 50 ragazzi lo sapevate che i draghi sicurgio lontani valenti dei draghi sono tenuti comunioni domestici da alcuni ricchi e forse stolti noxiani adesso che sapete questa cosa potete farmi ragazzi gare nel l'ax sono membri della famiglia che era un grande che ha protetto il tono di demascia per generazioni ma c'entra di alaba il problema è che garen c'era con l'ax perché l'ax è una maga non credo capire sta storia non ho mai vista la storia di sila però non ho capito perché garen ce la dovrebbe avere con l'ax no garen non ce l'ha con l'ax perché è una maga è che è che a demascia è che a demascia i maghi vengono rinchiusi è demascia che ce l'ha con i maghi è demascia che ce l'ha con i maghi e garen vuole proteggere la sorella magari è letteralmente justice invoca una spada e vabbè ma mica un mago ogni volta gare e gare le vuole proteggere voleva proteggere la sorella e darla in posa charvan sì perché no 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 proprio la ultima di gare mi sa proprio di tecnica di sila scendere che come cazzo si chiama garen ce l'ax ha cominciato ad andare alle segrete del castello alla prigione dove ci stavano lì vicino ci stavano ci stava la biblioteca ovviamente avete capito la prigione in tutti i bordi quindi stati attivati no è andata a legge i libri e allora un l'anno sgamata e gli ha fatto sono memori della famiglia che vuole che le facciamo visitare le cose passi da sopra vedi vuole che le facciamo visitare le prigioni quella fatto va bene e allora lì c'era questo è nostro ricercato è uno sai la summa go e allora si sono cominciati a conoscere l'axe e gli portava il cibo i volti ai tuoi di magia e aveva fatto scoprire a silas che tutte le prigioni tutta la prigione del bastione della vicina che ha fatto di mi voglio che pietra era una pietra magica che scasso avrebbe magia per questo che non può usare non può usare la magia lì brava lui impara con la pietricite lui impara controlla come usarla che è che la passiva di silas poi che per accedere la cosa alla esce fate e ammazza il padre di jargon quindi il vecchio che già sto laggando e vabbè poi l'axe invece aiuta i maghi a fuggire no grazie a tutti aspettiamo aspettiamo quasi che non vengono ok dov'è la bottling mi sono rispondo per questo che mi stavo pensando che c'è la vendita a tre secondi ma la botte di attendere mi deve diventare due di due stavo stavo passando vedo un trash tipo aggressivissimo il milion davanti ci si è messo il milion davanti e lì a che parto che arrivo subito sono aiutato il nostro mitra il centro in chat ci sta ciao 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 il popico seriato vieni in sedia and ho piuotato giorgio e si muoio mi tocca assalto la torre vai eccomi vabbè vabbè mi tira mi tira sull'auto attacco questo tanto che ti fanno si dai poi ci vuoi morire se tu non so l'ho per quale motivo scusa perché ti rallenta un botto non lo fai ma sono tutti a titolo lui non so cosa questa sta andando ah forse dovevo pigliare la cosa era non si sa mai magari flashano dal panico e flashano sul mio bravo oh che cristo è vabbè dai aspetta che non ho capito ah vabbè tanto l'ho voluto lo stesso ah ti ti ho fatto spiegare io perchè no perchè massimo usiamo i danni e tutto fai gabbè ne uno le ho volto di qua fai c'è una catena di montaggio no 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 c'ho la c'ho io c'ho io tanto vaffanculo i minion davanti via ma si corri in faccia corri in faccia gabbè il secondo gabbè il secondo non ce l'ho stuc stuc che cosa è brutta vedere tipo due halo plate su due trash che si attivano non so se ci sono fatti di amico ahahah ahahah lo spero non c'è il mana per il grab oddio si adesso si te lo levo te lo levo attacca dove sta attacca attacca stuc ah falcon punch si adesso ci mori fai punch stuc vai attacca no 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 è la grande mico e la coni che io ormai è la bot e la bot fita che mi faccio il primo item è il luden la richbane ok ok corri di certe crocoli di team sono più veloce io io sinceramente mi sto facendo questo qua proprio in centro mi faccio la statua ma che cazzo è ne faccio questa e poi ne faccio il fandom dentro ne hai fatti la gripe io fregno a me un clown voglia e il mio attivo al posto del club efe non sto con la briscia dopo sono quasi emozionante da chi dà essere la brava io già capato strano a non lo svelo scudo obiettivo e non è un po' Corri, Davide! La! Madonna che diabolo! Corri in faccia, corri in faccia! Stai stonando! Qual è? Guarda che diabolo angolato, deve se non muochi quel cannone. Quel mago. Comunque li stiamo uccidendo di ignoranza. Crocola l'altro. Non lo sceglieva. Dove ho fatto is? Dove ho fatto is? Dove ho fatto is? Dove ho venuto con il suo nome così ci acciglia un po' di farm? No, ce lo scelgo meno. Qui davanti contano più volte. Nico, opinate un po' di tacc. No. Questo, certo, no. Angelita. Tacc. Ciao, Giorgio. C'è quello con la skin più brutta, anche la skin pasca in medio di quella skin. No, da me che non mi piace. Eh, io ce la skin, bizzkin boom boom boom, me fa schicolsi. Oh, c'è il blu. Grabba, lo facciamo la catena. Mi so già la lune. Esattamente. Non lo so. Esattamente. Vabbè, non lo so. Vabbè, dai, top, se la si bella. Dai, dai, dai. Perché non dà mano alla statica? Eh, eh, tutti effetti dà mano. Eh, eh. Davide, se non c'è un po' di farlo, perché non si grabba quando è no-gappato. Ah, scusa. Tranquillo, rivediamo subito. Tranquillo, non dormire. Là! No, dai. No, non mi ho usato io, non mi ho usato, che merito. Non mi ho usato io, ti giuro che volevo usare io e l'ultare. Ci possiamo dare uno? Grabba uno. No. Come non c'è il grab? Adesso si ce l'ho. Mi riesco a muovere. Ma anche la top, conga. Noi, vanno all'erald. Tu prendi il grab. Vieni un po'? Vieni un po'? Eccolo. Cosa? Hai flashato l'house attack. Non c'avevo mana, non c'avevo mana. Se c'è il saluto mana, l'hai riuscito. L'altro pure, porco cane, è morto. Non pensavo flashed assi. Coglione. Beh, non trovi mana. Ma poi c'è il bisogno di mana. Ma lui non è sempre a p***. Guardi. Giorgio, come va l'alline? Non è vero. Divertente. Che succede niente? Oh Dio, Giorgio. L'ho visto tutto. Stato emozionato. Ma che sta fa' l'ho capato? Vieni qua. Non vieni qua a cosa, non ho mana per fare niente. Ah ma la eno che senta l'auto attack. Sì. Sì. Cioè puoi fare tipo quando grabbi e auto attack. No. Scappano un pochino perché adesso mi metterà avanti. Zai tanti, aiutami. Zai tanti. Tristezza. No. Aspetta, aspetta. Guarda, io ho la static. Quindi arriva la wheel e io la mando addosso. Roll. Io scappo, io scappo. Arrivo, arrivo, arrivo. Arrivo, arrivo, arrivo. Zook. Ehi tu porco, l'ho va a dire. Ehi tu porco. E con le ritorno. No. Quando c'è il blu. È un'altra umana. Sì, però non vale i trash e prendono l'armo. Infatti, no. Per questo ne andiamo a B. Basta finire lì prima che prendo l'armo. Infatti, oppure basta fare un po' di ripetazione matura. Allora, la W come seconda? Sì, perché la E praticamente cambia solo il Q-down. Ah, va bene, ok. Io sto maxando la E. Io pure la E. Eh, vabbè, magari voi perché sei da D, ma secondo me è meglio. Ah, però mi sai, loro vanno a P. Eh, ma comunque la doppia. Eh, noi andiamo a P, quindi. Molto più utile perché il doppio dell'A-D. La E, l'unica cosa che cambia, la W-down è il Q-down. La W-down è la velocità, veloce da F-down. Grande, fatti questo. Eh, no, vedi, non lo risetta. Ok, qua ti da IT da mando, po. Mi sembra male, è vecchio. E tu da 20d. Madonna che gioca. Io non ho bisogno di sitiare, io ho bisogno di andare con il Q-down. Oh, wow, che sidesteps signori. La allentare. La rallentare, poi. Che caso, dobbiamo per organizzare 5D insieme. 5D? Gravalo di nuovo. Quasi. La 5 secondi, 5. 4 alla vendetta 2 1 esattamente per te costetta così tanto al secondo la proposta del giro questo lavoro è un po' da che cazzo che ho sempre la capa purtroppo il mio e grabarlo per il tuo posto ma posso fare una ufficina se non lo vedo posso fare un paccio la roba è stato su un po' da bobo oggi non già faccio ok dopo la lich bane dov'è l'altro corre in faccia questo è un grabo vincente dai tiriamoci tiriamoci va via vado a prendermi il red scappa 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 arrivo arrivo venghi zent venghi zent quasi quantomeno però sti cosi quanti danni io ho fatto con quella la città non è ci sono le città l'ultimo non mi dava niente ma andrea 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 no no addio ma si stacca il culmine su un bersaglio solo no avevo male aspetta che fa più tanto ah perché tu c'è tu con un oggetto e tu hai tutto quello di più no perché tu ho comprato uno e tu ho scelto qua c'hai uno 1.1 dove c'è attacco io no aspettiamo il prossimo minuto io stacchi tu eh quindi si staccano due diversi eh vedi perchè non vuoi fare le ss3 hai meno danni no si ah perchè tu hai messo quello che tu hai messo quello che tu hai messo quello che l'abbattimenti ti da più attacco ma è buono allora no cioè se facciamo focus fire lì mi prendiamo un po' no come cazzo hai più troppo di me che di solito si si alla fine alla fine guarda come fare scusami ehhm pensavo grabasse forza oh oh sono in 5 sono tutti qua,Fatemi entrar Giorgio,Draghixio Giorgio,Draghixio DRAGO 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 no no DRAGO 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 l'altro volto,l'altro volto,l'altro volto No insek,insek fai un insect cazzo l'icin Che è lì fine quell'inzec che è? Ulta la ticchia, ulta! Ma... Fatto doppio Eh vabbè, questo ha flashato C'è che parte lui, secondo me ce l'ha fatto L'ho flashato... Naaaaaaaaaa E' morto Ecco Fatto uno l'ho acceso Ma perchè ci sono due Un po' il Z1, 1, 1, 0, 0, 0 Oh no Vabbè ragazzi, allora vanno sulla d'auto attacco non vale Cioè, e poi dalla distanza attacco non vale Cioè, e poi dalla distanza attacco non vale Cioè, c'è queste diagmol Vedi, 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 buttano via Magic pen Grazie a te, baolo Eh Tuck, 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 tuck No Ah Ok, il drago è una drago, ci ha, ci ha, ci ha, ci ha Cd sull'ultimo, o no Guarda, vado a fare un ovione Guarda, che infame che sei, però che cacchio Ti aspetta Hanno preso Giorgio Oh no Riccardo No, perchè la pianta? Si è messo a poppare la pianta Ma allora sei struso Uno Corri pari Non c'è il grab, che grab? Ah dai ma tu c'hai la skin di Blitzgang? Eh si ma non me la messa Piadro piadro che cu? Dai flash all'in là Che cu? L'ho inietato Dai ghiacciate Dai ghiacciate Giorgio tu sei quello che fa da mio brato Usiamo la nostra ultimate Che sta accalzando i danni Ma porco giura Giorgio La passione della nostra ultimate Guarda la sto a tanca io Adesso si può usare Ottimo Mi sto laggando troppo Per aspettare i danni Maolo? Maolo? Stuk Davide ci muori Quanto mena Eh oh quanto mena Cazzo è di Davide tu pensi quantomeno La finiva in ultima Eh lo so ma che l'ho usata Stuk 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 Difficoltà Scusate 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 Ma Cosa Grab da Tawa Grab da Tawa Vai tu te Piu Donna Te l'ho sfasciata Piu Ma se mi faccio la Gunblade e poi urto Mi fullo Eh si Sì Funziona al 3-3% Stuk 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 Blitz Squad Roll Out Stuk 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 Coronna gli danni Rollout Rollout Se ho matto Eh, ha flashato, non ci posso fare niente. Oh, un po' curto. Stai anche i Trash Shuppies, sono abbastanza... Oh, qua è il Fishing Spot. Oh, non lo puoi. Fishing Spot, vai vai. Pam, 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 pam. Sampai. Vada, io baito, io baito. Caterale di montaggio! La musica di Bucknitz. Oh, quello, quello, quello è chiuso. No, mi fai muovere. Zudun! Ah, vabbè, è pericolo. Viatro, viatro. Mamma mia. No, mi fate muovere. Aminta, aminta, ragazzi, aminta. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Oh, no, lui dice. Beh, è vero, che cazzo... Mi cade con il Luden. Ma che ne so, fatti il Rabaton, ma che ne so. Anche io vorrei baitare. Però ho 10.000 di fine. Nananana. Aga, dai, dai, dopo ci chiamo. Ecco, dai, hai questo un botto? Beh, beh, beh. Dai, oh, full movement speed e partire tutto da su. Vado full up. Ma perché non c'è un tank, la rigolo, eh? Eh, però che c'è, dai, dai. Dai, hai sempre più danni. Vabbè, ma il Rabaton non fa più danni? Il Rabaton non basta troppo. Eh, ma già mi sono comprato un bastone colossale. Eh, io non c'avevo i soldi, quindi. Io mi sono voluto finire il Luden secco. No, perché non si è mosso quello? Ma scusi, vabbè, 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 chieni più? Vaffanculo. ma non è vero c'è più pittù doja bravissimo ah no no non è vero riscuota rollout ora la torre come troll eh rollout rollout ma dovrebbero vincere i trash perchè stiamo vincendo perchè possiamo correre in faccia e prendere la pezza aspera cosa a quelli vado a farmi io al drago andiamo a freddero andiamo a freddero dai non lo faccio io al drago è uno degli unici delle poche cose che posso fare con 900 andiamo a freddero è la hud che ti riferisco noi andiamo a freddero a tutti se no poi questi suggerendolo goddio la mia vuol 18 secondi di cooldown buono 8 secondi cooldown sulla oh che cazzo quindi io adesso posso fare questo costantemente via 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 e fa 8 secondi via 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 oh no oh no no erree via go out go out no drug break drug break ma mi manda mi stelle ok mi stiamo spasciando mi stiamo spasciando mi stiamo spasciando si prendono il cionino assicurante tutto il cazzi cosa cosa ah 0 andry farm solo perchè se no larga ah non è che se no ho lato quindi cosa posso fare signori oh no oh no oh no 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 eh ragazzi la mia ultima sette secondi di cooldown via 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 la mia poche sette sette punto quarantaquattro pochè la mia uguale bellissimo se ci avessi avuto la luna pure quella del cooldown no oddio si è ucciso oddio oddio vale prendilo 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 io lo checco ok non serviva però va bene ma questo è giocando il pescatore facciamo facciamo catena di montagna william il caricati ho unicarico il ffe il ffe il ffe fa un Neben pushes andiamo a fare bun wow oh 720 danni due acostume boccia aughtemo quest ma vi pari una prova mi farei una prova dai no no non li ammazzati ok li sfondo infami questi ete più 50 si più 50 è stato bello giocare contro i mini oh ragazzi facciamo tutti i carindai no da p devi parlare con il concilio supremo no ma c'è anche full ad c'è full movement speed no da p ma io subito che si parla che era un concilio supremo onore no giorgio che è stato in mille non c'è avuto niente a che fare con me però mi è stato simpatico ha fatto più danni di tutti voi io ho preso tre onor non so per quale motivo e gli ha preso s meno non cambia cambiato cristiano se non è stato un baceno come fa una persona a fare 13 113